...per la circolazione. Questo è il postato dove sempre spolavano le acque nere. E ora no? Adesso è una secchia per il campo, questo è un campo. E per lo stallatico, perché quelli là sono polli e vacche. E invece si poteva mettere giù i tubi là. E li hanno messi dove c'è l'acqua? Non si capisce. Beh, insomma, è difficile una volta. Dove c'è quel riservo di acqua là c'è la spiaggia? No, c'è la delizia, è una spiaggia privata. Ah. E... E... Chiusa adesso, chiusa al pubblico. Non c'è problema. Non c'è spiaggia. No, ancora non ho in costume. Cioè, non ho mai... No, no, giusto per vedere. Sì. Non contrastino. Perché anche questa, se fosse tenuta pulita, è una spiaggia ottima. Ah. E... E... E qua potrebbero sfruttarla anche questa, no? Cioè, la popolazione è qua a fare dei... Sì, uno fa un corso... balneario e... E poi tutti i negozietti cominciano. Solo che non cominciano. espero... Io faccio... так...